Adriano Riva ha firmato la transazione per il rientro dalla Svizzera in Italia di 1,3 miliardi di euro in gran parte destinati alla bonifica dell'ILVA di Taranto di cui 230 milioni verranno impiegati per la gestione ordinaria della società. La firma Le Carte che sbloccano la somma è stata posta stamani in uno studio legale di Milano in vista del patteggiamento a due anni e mezzo di carcere che dovrebbe essere ratificato dal gruppo Chiara Valori. La firma posta da Adriano Riva imputato per bancarotta truffa i danni dello Stato e trasferimento fraudolento di valori rende l'esecutivo l'accordo raggiunto lo scorso dicembre tra le famiglie Riva, le società del gruppo e i commissari straordinari di ILVA. Intesa a mette a disposizione della cagliere di Taranto somme titoli per circa 1,1 miliardi di euro che erano bloccati in Svizzera dopo un sequestro disposto dalla procura di Milano nell'ambito dell'indagine sulla gestione del colosso siderurgico e il crack del gruppo Riva.